Musica Bentornato Goodleer, bentornata Avviamoci ad un altro salto nella tua crescita personale Infatti per non rimanere troppo indietro dobbiamo per forza passare a descrivere ciò che è attuale quindi è necessario approcciare al nuovo sistema operativo della Microsoft, quello più recente, Windows 8 in realtà è una piccola imprecisione in quanto già da tempo è stato rilasciato un grosso aggiornamento adesso che lo ha trasformato in Windows 8.1 ma questo più avanti ovviamente lasceremo sempre aperta l'opportunità di aggiornamenti e lezioni su Windows 7 ma ora non possiamo non iniziare questo nuovo percorso per così dire. Cos'è Windows 8? Come detto è l'ultimo prodotto rilasciato dalla Microsoft in data 26 ottobre 2012 quindi già è un anno e mezzo come puoi vedere non era più possibile andare avanti con la descrizione di Windows 7 senza considerare questa novità esistono 4 versioni Windows RT, Windows 8 normale, Windows 8 professional e Windows 8 enterprise la particolarità del sistema operativo Windows 8 è che ha una struttura e un'interfaccia che gli consente di essere installato sia su PC ma anche su dispositivi mobili ed essere utilizzata quindi sia con mouse e tastiera sia con le dita tramite i touchscreen come vedrai più avanti ti renderei conto man mano delle diversità citandoti la mia esperienza non appena ho testato Windows 8 pochi mesi dopo la sua uscita su una macchina di studio il mio autocontrollo ha subito un duro colpo perché non tanto durante l'installazione in cui naturalmente c'erano delle piccole differenze e con un po' di intuito sono riuscito a comprendere queste piccole differenze ma soprattutto all'atto del primo avvio subito dopo aver terminato l'installazione un colpo allo stomaco in piena ispirazione per capirci questo per definirti il mio stato psicologico spaisato, bloccato nel cercare di individuare qualcosa che già conoscevo e che vedevo proiettato sul desktop la mia esperienza d'uso non riconosceva quanto mi era presentato muovere un mouse sulla nuova interfaccia che veniva chiamata Metro e in difficoltà dopo qualche secondo andava ad individuare alcune icone che in realtà erano sotto forma di rettangoli chiamati piastrelle quindi i pulsanti che tentavo di riconoscere e cliccandoci sopra si avviavano i programmi relativi meno male quindi che qualcosa dicevo dentro di me era rimasto sostanzialmente identico quindi un collegamento con i programmi però non c'era a prima vista a col pulsante start non si vedeva il desktop non vedevo la barra delle applicazioni ero molto molto impacciato sai cosa ho fatto dopo qualche minuto? dopo qualche decina di minuti? l'ho accantonato per diversi mesi si l'ho accantonato affinché quel disagio, quel pugno allo stomaco avesse svanito gli effetti collaterali del suo urto beh questa nuova interfaccia è dovuta alla politica della Microsoft nell'individuare un'unica piattaforma installabile su ogni dispositivo sia fisso che mobile bene però nella seconda metà del 2013 mi sono deciso ad affrontare questo gigante quindi con pazienza ho iniziato a utilizzarlo oggi ancora devo essere sincero all'avvio cerco subito la visualizzazione del desktop per mantenere questa mia zona di agio e la barra di applicazioni nella quale ho inserito i collegamenti ai programmi che maggiormente utilizzo tuttora ci sono delle sezioni celate ma le scopriremo man mano insieme durante questo nuovo percorso perché è accaduto questo? perché naturalmente per natura ad ogni cambio si deve per forza di cose abbandonare la zona di agio per scoprire le novità altrimenti si deve abbandonare come avevo fatto all'inizio se non si è disposti ad evolversi questa piccola digressione che ti ho fatto non è molto inerente alla didattica naturalmente era solo per spiegarti a cosa andrà incontro se non ti sei mai interfacciato se non ti sei mai interfacciato con questo nuovo sistema operativo ed eventualmente se tu vorrai per condividere le tue impressioni se già lo utilizzi tornando alla didattica per quel che riguarda le quattro edizioni prenderò in considerazione Windows 8 Professional la versione base di Windows 8 è la Professional che integra maggiori funzioni rispetto alla base sono le edizioni che maggiormente suppongo ti troverai a lavorare sia per uso personale sia ad esempio in ambito lavorativo anche se naturalmente non è da escludere che ti potrai interfacciare anche con le altre due edizioni oltre all'interfaccia in termini di novità è che potrai accedere al negozio chiamato Store della Microsoft per poter scaricare ed installare anche applicazioni dedicate come se utilizzassi il dispositivo come un tablet o uno smartphone ovviamente devi in questo caso possedere un profilo Microsoft un account per poter accedere allo Store ma comunque puoi sempre installare programmi alla vecchia maniera con ciò potrai anche aver sincronizzato le impostazioni tra tutti i dispositivi che impiegherai con Windows 8 un po' come per i dispositivi basati su Android e quelli della Apple quali sono i requisiti? prima di decidere di acquistare eventualmente Windows 8 naturalmente lo puoi testare ma per poterlo installare comunque hai la necessità di impiegare delle risorse hardware ben specifiche come è accaduto naturalmente anche per i precedenti sistemi operativi in base soprattutto all'architettura del processore se a 32 o 64 bit il processore deve avere una velocità minima di 1 GHz e la RAM installata deve avere 1 GB per l'architettura tra 32 e 2 GB per 64 bit lo spazio sul disco rigido dovrà avvaliare tra 16 e 20 GB in base all'architettura ma naturalmente questo lascia il tempo che trova visti i corposi dischi rigidi che attualmente utilizziamo invece per quel che riguarda la scheda video deve possedere almeno le DirectX numero 9 ed una risoluzione da poter impostare di almeno 1024 x 768 pixel bene nella prossima lezione ti darò altre informazioni su Windows 8 prima di procedere alla descrizione dell'installazione ora come sempre un forte saluto ciao a presto tagallo e alla prossima ciao a presto ciao a presto ciao a presto ciao a presto ciao a presto